Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sul mio canale per un bel motivo Dusan Vlaovic è un giocatore della Juventus, possiamo dirlo tranquillamente c'è ormai l'ultimo tassello che mancava e finito al suo posto ovvero limare i dettagli con l'entourage, cercare l'accordo con l'entourage del giocatore, c'è tutto adesso il giocatore sosterrà poi le visite mediche, se le farà, altrimenti firmerà il contratto che in caso di positività covid, se avverrà questa cosa, il contratto si può firmare anche elettronicamente con la firma elettronica, per cui se c'è l'impossibilità entro lunedì di firmare di persona questo contratto a quel punto il contratto verrà firmato elettronicamente Dusan Vlaovic, come vi ho detto nel video in cui ho fatto chiarezza, ha l'idoneità per questa stagione poi subirà un altro tormento medico di visite mediche dopo aver passato il covid e basta è finita qua ragazzi, non c'è nulla di trascendentale, è la prassi questa cosa qua per cui Vlaovic possiamo considerare da tutti gli effetti adesso un giocatore della Juventus sono curioso di vedere le cifre esatte, probabilmente quelle con l'accordo con la Fiorentina usciranno poi col comunicato della Juventus e poi invece le cifre del ragazzo tramite rumors vari insomma usciranno fuori chi insomma ha dato la notizia? Ho visto che Romeo Agresti è stato prontissimo nel dare questa questa grandissima notizia, ha scritto appunto che l'accordo con l'entourage c'era tutto quindi definiti i dettagli, Vlaovic è un giocatore insomma della Juventus è un affare chiuso nella sua totalità, aggiunge, definisce quindi Romeo Agresti e abbiamo fatto un grande colpo ragazzi, io sono straemozionato veramente un grandissimo colpo a gennaio di quelli che non ti aspetti di quelli che cercano, insomma di quelli fatto con l'idea di migliorare questa stagione qua e di dare sostenibilità sul medio e lungo periodo quindi complimenti alla dirigenza della Juventus voi mi dite che quei soldi, gli affari è facile farli non è così perché la concorrenza era tanta c'è stata un'opera importante di lavoro su questo ragazzo il ragazzo ha sposato la Juventus quindi i matrimoni si fanno in due c'è anche un'opera di convincimento della società in realtà non è che la società ha fatto la sua proposta e poi ha detto sai che c'è Dusan, se vuoi venire bene altrimenti vai e prenditela in quel posto la Juventus avrà cercato di imbonire il ragazzo poi il ragazzo era abbastanza fermo nella sua idea quindi è venuto da noi non è vero che con i soldi si fa tutto serve anche la volontà del ragazzo e la volontà del ragazzo bisogna lavorarsela il ragazzo ha scelto questa squadra quindi noi dobbiamo essere orgogliosi sia della scelta di Vlaovic e sia ovviamente del lavoro che è stato fatto in dirigenza perché in pochi giorni è stata imbastita una trattativa per nulla semplice che prevedeva la trattativa con la Fiorentina che ripetiamo dovrebbe essere un 67 milioni di cash più bonus pagabile in diversi anni per Vlaovic contratto da 4 milioni e mezzo con 7 milioni netti a stagione quindi anche sotto la soia dove arriva bene insomma non vuole che si vada quindi la soia dei 7 milioni è là quindi grande colpo secondo me dalla Juventus di prospettiva rispetto a tutti gli altri colpi ripeto io ve lo metto per emozione sotto Ronaldo ma sopra Iguain sopra Iguain perché al di là dell'emozione e dell'emotività c'è anche un ragionamento che viene fatto sul futuro sulla futuribilità di questa trattativa perché non è un vuoto a perdere Vlaovic è un giocatore che potrà prendere ancora più valore potrà migliorare, crescere diventare un giocatore importante anche in panorami internazionali tra cui la Champions League già quest'anno ora non so che cosa succederà per le visite mediche non so come il giocatore potrà venire a Torino se verrà a Torino dopo anche la data di chiusura del mercato però insomma le firme ci sono tutte è un affare chiuso è della Juve ragazzi punto quelli sono dettagli da poco poi sosterrà le visite mediche finali insomma per capire un po' lo stato di salute del ragazzo ma avendo l'idoneità fisica non credo che ci siano problemi poi si passerà alle firme di persona ripeto dovessero esserci dei problemi di positività del ragazzo perché la Fiorentina non ha detto per privacy insomma chi erano i giocatori positivi la firma al contratto si può comunque apporre con la firma elettronica io ho fatto quel video molto forte che alcuni hanno criticato perché ragazzi io ho preso esattamente la domanda che mi avete fatto su Instagram sono stato bombardato giustamente di messaggi perché capisco un po' la preoccupazione di tanti tifosi io conoscendo i fatti era abbastanza tranquillo non mi aspettavo scossoni o cambiamenti anche perché l'ambiente a Firenze si è fatto parecchie infuocate quindi capite bene che non c'erano i presupposti per far saltare l'affare e far finta di nulla Vlavic a Firenze questo finale di stagione lo vivrebbe veramente malissimo poi oltretutto è nell'interesse della Fiorentina andare a chiuderlo e nell'interesse del ragazzo anche cambiare squadra perché insomma questa idea c'era e maturava da ottobre non c'erano i presupposti per far saltare l'affare quindi affare raggiunto accordo raggiunto ci siamo Vlavic verrà la settimana prossima probabilmente credo magari già nella giornata di sabato a Torino se tutto a posto altrimenti ripeto non ci sono problemi sulla burocrazia sui documenti sulle firme e visite mediche state tranquilli Vlavic ragazzi è un giocatore della Juventus e ce lo godiamo alla faccia di chi ci vuole male alla faccia di chi critica questo colpo io sono molto contento c'è gente che ci fa le pulci le pulci ragazzi sui soldi sui centesimi ma come fate a far così signori noi siamo una squadra fortunata che ha dietro una proprietà fortissima punto la Exor ed è molto più forte di tutte le altre squadre da questo punto di vista della solidità cioè col 2% di utile la Exor si investe si compra l'Inter così ha detto Moji ieri vedo gente che fa le pulci per Vlavic insomma ha detto una roba simile ha detto la gente non sa che se Exor vuole si compra l'Inter con solo 2% di utile giusto per farvi capire un pochettino la potenza insomma della proprietà dal punto di vista economico dovrebbero preoccuparsi quelle squadre che invece fanno i bond da 415 milioni altamente speculativi sono altre le società che secondo me hanno un pelo più di difficoltà della Juventus quindi eppure ci sono tanti investimenti cioè l'Inter già in questa sessione di mercato sta investendo circa 85 milioni perché se prendono Scamacca Fratesi e il buon Gossens sono tre super colpi però insomma dal punto di vista economico credo che debbano dare più risposte loro rispetto a noi giusto per farvi un esempio oppure Napoli quando ha dato ha preso Osimena 80 milioni che ha dato due contropartite tecniche con delle plusvalenze iper gonfiate di gente che a Lille non c'è mai andata neppure di persona quindi ragazzi quando vi capita che qualcuno ve la pone su questo discorso siate sempre pronti a rispondere esattamente con queste due frasi che vi ho detto in questo video comunque ragazzi felicissimo per Dusan Vlaovic ripeto Hayeva Dream ovvero Morata a sinistra Dybala dietro Vlaovic Vlaovic davanti a destra a quadrato secondo me è devastante come attacco poi l'anno prossimo ricordiamoci che c'è un Kiko Chiesa in più che torna alla base magari sano integro e facciamo il devasto serve qualcosina a centrocampo questo senz'altro perché la squadra è ancora incompleta a livello strutturale va sicuramente completata vanno tagliati i rami secchi vanno tagliati tutti quegli sprechi economici che in campo rendono veramente poco ma credo che stiamo veramente prendendo la strada del costruire questa nuova Juventus con gioventù con giocatori già pronti ma con criterio sperando che questo sia il primo passo ecco che non ci si adagi non bisogna mai adagiarsi io quando sento la squadra è competitiva col cavolo tutte le squadre sono sempre migliorabili o in un ruolo o nell'altro ruolo tutte non bisogna mai adagiarsi serve sempre l'autocritica quando giochiamo quando manca qualcosa questo senz'altro ma con l'intento sempre di essere costruttivi e mai distruttivi mai distruttivi perché vedo troppa gente distruttiva nei confronti della Juventus quindi complimenti alla società per questo colpo non vedo l'ora di vederlo dal vivo ora veramente ho questa scimmia qua voglio vedere Dusan Vlaovic dal vivo perché secondo me deve essere uno spettacolo signori questo è tutto noi ci vediamo domani buona serata a tutti voi godetevi questa bellissima notizia e sempre fino alla fine forza Juventus ragazzi